Era tempo che aspettavamo di poter discutere questo processo perché sono fatti che sostanzialmente abbiamo ricostruito secondo il loro reale andamento che dimostrano tutto fuorché il fatto che il raso sia associato all'andrangheta. È una persona per bene, un lavoratore, tutti lo conoscevano da Osta, questa è la verità, poiché oggi alcuni di loro se ne siano dimenticati tra coloro che frequentavano il ristorante è un altro discorso, però la verità è che il raso è sempre stato visto e conosciuto come un ottimo ristoratore e basta, non ha mai avuto nessun tipo di forza intimidatrice, è una persona per bene, speriamo di poterlo affermare in preta. Le intercettazioni hanno restituito una realtà diversa da quella dipinta, ipotizzata dall'accusa, hanno restituito, come diceva il collega Picanzi, un lavoratore, una persona per bene e i reati non si evincono, confidiamo di essere riusciti a dimostrarlo. Grazie a tutti.